Il Consiglio Comunale dei Ragazzi secondo me è una delle più sentite manifestazioni, più partecipate perché vi posso garantire che le idee che vengono fuori dai nostri bambini sono quelle che ci diranno come sarà il futuro. Il loro futuro è ambiente, di traffico non ne vogliamo, vogliamo verde, vogliamo che la città abbia giusti controlli che le regole vengano seguite. Anche oggi ce ne hanno dato un paio di spunti qui all'Agrigoletti come per esempio, sentite bene, una giornata senza traffico in tutta la città dove tutti non devono usare l'auto. E questo proprio perché i bambini ritengono che questo sia un modo di stare più insieme e più vicini. Sarà un'idea su cui penseremo bene come realizzarla e come portarla avanti. Grazie. Grazie.